ciao ciao amici ben ritrovati nel canale allora oggi ci facciamo una bella grazzatina mista con biglietti da tre e da due ok sempre dedicati e passiamo alla nostra grazzata ok cominciamo con i biglietti da due incominciamo con la scova con la nuova scova lui richiesta da fabio romani ciao fabio ecco qui la tua scova adesso aggiungiamo ok penso che va bene vediamo un po se la luna riesce a incontrare ok allora buona visione a tutti passiamo la nostra grazzata questo questo bigliettino comunque c'è il piccolino diciamo lo potevano fare più grande allora cominciamo dalle carte sul tavolo che abbiamo un 7 un 2 e un 1 allora 7 8 9 un 10 allora un re ci serve ecco io che ho già trattato tutto vabbè incominciamo dalla prima giocata vediamo cosa ci dà ed è un 9 e non ci serve un 10 7 8 9 10 6 10 poi abbiamo un 1 poi abbiamo 4 questo è un 8 poi abbiamo un 2 e abbiamo un 4 continuiamo con un 3 poi abbiamo un 2 un 7 ultima giocata questo è un 6 e di nuovo un 9 e noi ci serve un 10 e niente di fatto carissimo fabio il bigliettino non è vincente mi dispiace ma sarà per la prossima volta continuiamo avevo dimenticato ora di dire il numero allora numero 55 serie 97 passiamo ai simboli del miliardario diciamo subito i numeri qua allora bigliettino allora biglietto 38 serie 31 richiesto da rossella picchio ciao rossella ecco qui il tuo miliardario da due ok allora vediamo un po che ci dice primo simbolo lingotto qua abbiamo una stella e un ferro di cavallo poi 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 abbiamo continuiamo con un ferro di cavallo e poi qua bonus lingotto questo è buono questo è buono poi abbiamo una stella e forse l'unica possibilità non è il lingotto moneta ma allora abbiamo no 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 ho sbagliato qui dovevo grattare niente l'unica cosa che ci resta qui ci doveva uscire il lingotto per fare la diagonale ho sbagliato sì dovevo grattare prima questo vabbè comunque vediamo un po' se ci dà un'altra moneta si Rossella abbiamo vinto ok vediamo un po' speriamo che sono più di 2 euro questo è il premio verticale il premio verticale è questo è 2 euro e vabbè comunque abbiamo ripreso il bigliettino meglio di niente ok passiamo al turista per 10 anni è dedicato a Silvia Terrenziani ciao Silvia che mi ha chiesto di di dedicargli un bigliettino ma non mi ha detto quale allora questo è tagliando numero 22 sede 45 ecco qui vediamo le babarelle che ci dicono le nostre babarelle speriamo che ci portano fortuna le babarelle Silvana no Silvia Silvia non Silvia scusa Silvia ok allora la prima valigia ci dice 17 abbiamo 20 26 e bonus 14 primo numero 24 abbiamo 37 21 e abbiamo il 20 e 19 abbiamo 42 turista 41 niente ultimo numero 36 e noi abbiamo il 26 mi dispiace cara Silvia ma il bigliettino non è vincente ok mettiamolo da parte e passiamo il 27 richiesto da Anna Maria D'Agostino ciao Anna Maria ecco qui il tuo 27 allora questo è numero 5 serie 53 scusate ok allora vediamo un po' che ci dice questo che ci dice questo che si guarda numeri vincenti 31 39 37 e 29 ok allora primo numero 13 e 31 all'inverso abbiamo 20 niente 12 non c'è 19 neanche e 34 non ce l'abbiamo abbiamo 44 niente 16 non c'è 46 neanche 33 non ce l'abbiamo ultimo numero 21 e abbiamo il 31 car Anna Maria niente da un secolo ma adesso che non mi riesce più un moltiplicatore a pensare prima quanto ne ho presi tanti di moltiplicatori prima che uscisse questo bigliettino nuovo con quello vecchio ma ma adesso veramente non c'è più niente niente di niente e va bene va bene continuiamo farò la prossima volta adesso abbiamo un 7 e mezzo un super 7 e mezzo richiesto da Vittorio Murano ciao Vittorio ecco qui il tuo 7 e mezzo vediamo se va bene l'inquadratura ok ah dimenticavo il numero allora numero 19 serie 44 vediamo che ci dicono i gatti che ci dicono i gatti la serie dei gatti è questa ok allora vediamo il banco ci dice 1 5 5 e mezzo allora il banco ci dice 5 e mezzo vediamo un po' quello che troviamo prima giocata è un 3 un mezzo e un mezzo niente 4 che stiamo indietro seconda giocata mezzo mezzo e 3 e neanche con questo facciamo niente vediamo un po' con il 7 e mezzo se facciamo il 7 e mezzo con le super carte allora abbiamo un mezzo abbiamo un 5 allora un 2 ci serve no 1 mannaggia no mi dispiace carissimo vittoria vero questo biglietto non è vincente purtroppo e vabbè niente sarà bella la prossima volta adesso passiamo alla prossima dichiesta di Aurora Gerre ciao Aurora Aurora tu mi avevi chiesto il numero 15 ma non l'ho trovato questo bigliettino è 33 numero 33 33 serie 20 ok vediamo che ci dice se vuoi volta fortuna ricordo che stiamo a 2 euro di recupero vediamo un po' prima importe ricordo 3 importi uguali allora 200 200 200 10 100 3 400 10 10 40 e 5 euro 100 euro il secondo 40 40 no è il primo 40 gli altri sono 400 non lo stiamo mettendo proprio o male 100 euro se no non possiamo fare niente o 200 o 200 o 200 o 200 euro con il resto non possiamo fare niente e 400 vediamo un po' che ci dice 3 euro e vabbè il primo gioco è andato passiamo con il gioco dei simboli allora cucinella forciere pentolone e soldi niente questo è anche per dentro cara Aurora niente sarà per la prossima volta adesso passiamo a mamma non mamma richiesto da Ivana Polo ciao Ivana ecco qui il tuo mamma mamma non mamma questo è pure il numero dei gatti numero 44 serie 43 ma vediamo un po' vediamo il mamma non mamma la nostra maglita cosa ci dice dai mi metti a fuoco cosa c'è perché non metti a fuoco ma non so perché non metti a fuoco ok adesso ok allora simbolo bonus abbiamo il pennello ok primo pesalo disco cuore cuore tamburello farfalla occhiali pace chitarra chitarra matita pantaloni arcobaleno roulotte cuore e cuore e ne sono quattro cuore mi dispiace niente anche con questo abbiamo fatto niente è uscita la matita invece del pennello è uscita niente niente cara Ivana purtroppo il biglietto non è vincente passiamo all'ultimo biglietto di oggi che è un numero fortunati numeri fortunati richiesto da Salvatore Maghella ciao Salvatore ecco qua vediamo un po' questi numeri forse anche ci dicono se ci salvano un po' allora primo numero 31 che non c'è poi abbiamo 62 e anche vedo poi abbiamo 58 di Avro è bene 80 eccolo 69 eccolo 60 eccolo 74 eccolo qua 23 non c'è no 41 eccolo 38 non ce l'abbiamo 19 e anche c'è 22 eccolo 42 niente 68 e 67 ci serviva noi 68 78 eccolo non ci porta niente ultimo numero 34 e anche questo biglietto è perdente carissimo Salvatore e oggi è andato a pure malino per non dire male allora abbiamo grattato tutti questi biglietti che mi sembra che è una spesa di 20 euro 20 euro l'unico recupero che abbiamo fatto è stato con i simboli del miliardario con 2 euro e purtroppo abbiamo ripreso solo 2 euro e mi dispiace cari amici mi è andata così oggi pazienza come dico io sempre intanto vi ringrazio per la visualizzazione del video se vi è piaciuto il video scusate ma si era interrotto volevo dirvi soltanto che purtroppo chiudiamo il video oggi con 2 euro di recupero a su 20 euro spesi abbiamo preso 2 euro e pazienza vi stavo ringraziando per la visione del video pollice in su stavo dicendo e niente condividete e iscrivetevi al mio canale vi aspetto in numerosi e intanto vi do appuntamento al prossimo video un bacio un abbraccio alla lina ciao ciao